La prima seduta consiste in un'ordida di mezzo allo sottopiurano con questa moda depressionizzata per eliminare i grassi sull'addome. La prima seduta consiste in un'ordida di mezzo allo sottopiurano con questa moda depressionizzata per eliminare i grassi sull'addome. La prima seduta consiste in un'ordida di mezzo allo sottopiurano con questa moda depressionizzata per eliminare i grassi sull'addome. La prima seduta consiste in un'ordida di mezzo allo sottopiurano con questa moda depressionizzata per eliminare i grassi sull'addome.